Ben approdati nuovamente sul mio canale ed oggi torniamo a parlare di profumi per cui vado a rispondere ad una vostra richiesta dopo non lo so forse tipo 5 mesi? si probabile 4 o 5 mesi sicuramente tanto è che quella che mi ha fatto la richiesta manco se lo ricorderà ma qualcuno di voi mi chiese di fare un video dedicato ai profumi talcati che non sono esattamente la mia cosa preferita perché sono una donna più da gourmand ma ne ho alcuni nella mia parfum collection che sono molto interessanti che amo indossare e che vorrei consigliarvi è un sacco solo cost per cui andiamo a cominciare allora ci stanno un sacco dei tesori d'oriente tesori d'oriente è un botto che non ne parlo ma c'è un sacco di video da fare dei tesori d'oriente quindi qui tocca che cominciamo a recuperare un po' dei video sui profumi ma cominciamo da quello con il prezzo più basso perché se non ricordo male queste acque profumate di Alin costano intorno ai 2 euro li potete acquistare da Inns non sempre sono disponibili io spero che al momento lo siano ancora perché devo andare a fare scorta della mia preferita che non essendo una talcata non ho inserito in questo video comunque questa è acqua profumata gelzomino e orchidea ma sono spruzzata in faccia stavo a morire allora è dolce fiorita un po' anche succosa leggermente e talcata un po' cipriatina sa proprio di pulito mi ricorda il borotalco della nonna e da una parte un pochino anche il profumo proprio di mia nonna mia nonna portava spuma di champagne aveva tutto di spuma di champagne e stava in fissa proprio che voi non potete capire ovviamente borotalco Roberts sì e mi ricorda un po' il profumo della nonna ma non in senso dispregiativo perché comunque c'è il gelzomino che va a dare quella nota dolce fresca un po' succosa questa mi piace piaceva molto a mia madre tant'è che una la consumata completamente lei e c'è l'orchidea che dà quella nota cipriata quella nota un po' polverosa proprio di borotalco che però non dà fastidio a me di solito i profumi talcati danno un pochino di mal di testa per questo non li amo tantissimo comunque sono pochi quelli che riesco a portare senza appunto avere questa conseguenza e questo è uno di loro quindi ve la consiglio tantissimo anche perché costa pochissimo e dura veramente un sacco andiamo con un talcato per eccellenza questo è proprio il profumo talcato ed è muschio bianco di tesori d'oriente se devo pensare ad un talcato mi viene in mente semplicemente lui forever and ever e senti qua questo è proprio un borotalco classico da signora anche un pochino dolce e da proprio quel profumo un po' di pulito un po' di ammorbidente un po' di bucato steso al sole però un po' anche di signora di classe diciamo allora andiamoci a vedere un pochino le note olfattive così vi potete rendere conto e quindi abbiamo in testa aldeidi, fiori bianchi, gelsomino note di cuore, note talcate ovviamente pedali di rosa che vanno a rafforzare tutta questa situazione mentre le note di fondo muschio bianco, ambra e note boschive veramente un ottimo profumo io lo utilizzo anche come ammorbidente e come tutti quelli che vi mostrerò non è uno di quei profumi che danno mal di testa che risultano magari un po' soffocanti così come possono essere alcuni profumi talcati almeno secondo la mia percezione non so se sono l'unica fatemi sapere nei commenti se anche voi avete questo problema con i profumi talcati adesso andiamo sempre con un tesori d'oriente ed è un talcato fresco frizzante e energico questo è tè verde macia buonissimo veramente buonissimo questo profumo mi ricorda il mio ragazzo Alessandro perché la prima sera che siamo usciti lui indossava questo profumo e io ne sono rimasta totalmente folgorata infatti una delle prime cose che gli ho chiesto quando ci siamo seduti al pub dove abbiamo fatto il nostro primo appuntamento è stato che profumo indossasse e lui mi ha chiesto di indovinare non ci sono riuscita perché questo tesori d'oriente io non lo avevo l'ho comprato dopo però mi ha stupito quando mi ha detto che indossavo un tesori d'oriente buonissimo qua si sente non lo so un qualcosa tipo zenzero agrumato succoso dolce ma fresco e poi c'è quella nota talcata di sottofondo e andiamo a vedere un po' quanto ci ho preso e quanto no e infatti c'è il bergamotto che dà quel sentore agrumato fresco e frizzante il cardamomo che è una spezia il pepe l'arancia amara e il mandarino c'è una forte componente agrumata che è proprio quella che apre il profumo nel cuore abbiamo tè verde maccia neroli e cavoli mi sono fermata ma stavo per dire che sentivo anche la nota del neroli che è una nota che amo veramente tantissimo gelsomino rosa e mughetto che danno la dolcezza invece nelle note di fondo c'è muschio legno di cedro ambra e sandalo questo è un profumo che trovo molto adatto per l'estate perché pur essendo un profumo talcato uno di quei profumi che sa veramente di fresco e di pulito tutta questa parte agrumata e soprattutto il neroli e tutti quanti gli agrumi il bergamotto lo rendono un profumo fresco e molto portabile e anche proprio rinfrescante questo lo consiglio veramente tantissimo ora stoppiamo per un momento i tesori d'oriente gli ultimi due ve li farò vedere all'ultimo perché voglio andare a spezzare un po' con un profumo particolare questo è un profumo diciamo definiamolo di nicchia però low cost di nicchia low cost perché è un profumo che pur essendo nicchia non costa tantissimo diciamo per quella categoria e viene intorno ai 40 euro è di corres ed è black sugar zucchero nero e dal nome ci si aspetterebbe un gourmand un profumo dolce io vi giuro che questo è molto talcato e sono rimasta stupita anch'io quando l'ho spruzzato perché non me l'aspettavo minimamente mamma mia questo profumo e per te che mi hai chiesto e spero che ti manifesterai nei commenti questo profumo sa di Borotalco Roberts sa veramente di Borotalco Roberts mamma mia mi ricorda tantissimo proprio quel profumo con l'aggiunta di una nota leggermente dolciastra e liquorosa sotto ma proprio un'ombra la cosa che si sente di più è il Borotalco Roberts che ti aggredisce proprio così però non mi fa comunque venire mal di testa allora in apertura abbiamo Fiore di Lili Orientale Caramello e Deliotropo nel cuore abbiamo Rosa Zucchero Nero Legno di Rosa Brasiliana mentre sul fondo Ambra Vaniglia e Tonka però vi dico il Lili Orientale Leliotropo la Rosa e il Legno di Rosa sono quelli che la fanno dei protagonisti proprio all'apertura e sanno proprio di Borotalco Roberts poi sotto c'è questa nota come vi ho detto dolciastra quasi rigorosa molto proprio intedata dall'insieme di vaniglia quindi fava tonka che sarebbe poi una bacca di una qualità di vaniglia fava tonka caramello e zucchero rosa ma il caramello nonostante sia in apertura non si sente subito o comunque non si sente così forte è un profumo estremamente particolare e lo trovo un profumo un po' più autunnale invernale però alla fine non c'è esattamente una stagione per i profumi perché io per i profumi vado a sentimento a seconda di quello che mi ispira e vi consiglio di dargli un'annosata perché è davvero sorprendente e vi riporta proprio all'infanzia col Borodalco Roberts allora altro profumo è di Alaramain Alaraman non so bene come si pronuncia comunque è un profumo arabo la confezione è stupenda bellissima e questo si chiama Bell dovrebbe essere se non erro un profumo a base di rosa proviamolo un attimo proviamolo allora nonostante l'apertura sia super dolce e fruttata perché è un profumo che di note fruttate ne contiene tantissime a me comunque dà questa stranissima sensazione proprio di pulito leggerezza ariosità lo trova un profumo delicatissimo uno di quei profumi che ti devi avvicinare per sentirlo perché non ha una scia potentissima il melone la fa senza dubbio da protagonista assieme al muschio che è quello che contribuisce a dare appunto questo profumo di pulito vi vado a leggere le note olfattive che sono fiori di ribes nero mandarino e pompelmo in apertura melone al bicocca nel cuore che sono quella parte dolce fruttata juicy e nel fondo dolciumi muschio e sandalo che è quello che poi gli dà questo sentore di pulito e questa delicatezza è un profumo che trovo veramente poetico e vi consiglio anche questo di dargli una possibilità se avete possibilità insomma di annusarlo di procurarvi un campione perché è molto interessante non ha un prezzo alto al momento mi sembra che non sia disponibile su un notino se riesco a trovare un link ve lo metto giù nell'info box diciamo che questo è quello che va un po' più fuori dalla linea dei talcati ma io lo voglio comunque inserire proprio per questa sua leggerezza leggerezza seriosità delicatezza e questo suo sentore di pulito dolce e delicato andiamo con gli ultimi due tesori d'oriente allora la sveglia allora questa sveglia mi parte ogni volta alle 18 e 30 ogni volta io la disattivo e lei si riattiva credo che la cancellerò perché non mi ricordo manco perché mai l'ho fissata questa sveglia alle 18 e 30 perché andiamo avanti qua tiriamo fuori praticamente un cimelio un'anticaglia dei tesori d'oriente perché credo sia stato proprio uno dei primi tesori d'oriente lanciati assieme al muschio bianco ed è fiore di loto e questo è proprio tanto tanto talcato e molto particolare non è uno di quelli che amo di più è un talcato in cui sento anche comunque delle note verdi e frizzanti praticamente in apertura c'è pesca arancia e rosa e infatti l'agrume è quello che dà questa nota frizzante nel cuore c'è fiori di loto tuberosa gelsomino e mughetto quindi un bouquet di fiori bianchi con il fiore di loto e credo sia proprio il fiore di loto che ha questo sentore di burotalco proprio da signora nel fondo abbiamo vaniglia sandalo muschio e note boschive infatti io lo sento un pochino anche verde è particolarissimo mi ricorda un pizzico un profumo vintage però c'è quella nota di freschezza frizzante un po' in più che lo rende più più succoso più vivo rispetto ai profumi vintage che veramente sanno di polveroso e cipriato boudoir questo no questo un po' più un po' più jardin d'invern jardin d'invern vabbè con il francese io non ci appiccico niente mi madre parlava francese ma io proprio zero non ha mai attecchito ultimo profumo che non è esattamente talcato ma anche questo fa parte di quei profumi che io inserisco nella categoria profumi che sanno di pulito e di fresco questo è un ozonato è talassoterapy un altro profumo che veramente è un'esperienza sensoriale perché sta proprio di oceano di risacca marina wow è davvero tanto particolare come profumo proprio ozonato con la O così di ozonato e in apertura c'è bergamotto e limone quindi super fresco invece nel cuore sale marino e alghe e ve lo giuro le alghe si sentono mentre sul fondo muschio e legno di cetro diciamo che il muschio è quello che dà un po' quel sentore di talcato pulito ammorbidente però la parte quella ozonata di alghe è quella che si sente di più di alghe di sale marino un po' quasi un pizzico metallico questo è un profumo che secondo me è molto molto bello da portare in estate e anche questo annusatelo perché è veramente particolare quindi ragazzo tu che mi hai chiesto i profumi talcati la maggior parte sono profumi talcati ma ti consiglio di dare una possibilità anche a questo perché se ti piacciono i profumi talcati magari ti piacciono anche proprio i profumi quelli di di pulito e ariosi freschi frizzanti e questo questo lo è e con quest'ultima chicca profumata il mio video si conclude qui spero di avervi dato delle dritte interessanti per tutti voi amanti di talcati o per chi vuole magari avvicinarsi a questa famiglia olfattiva magari incuriosito e sono contenta di aver messo insieme praticamente quasi tutti i profumi low cost in modo da consigliarvi degli ottimi profumi che abbiano anche un ottimo prezzo e vi posso dire che tra quelli che vi ho consigliato i più talcati di tutti sono senza alcuna ombra di dubbio questi tre questi tre e qui andiamo veramente dal più economico tipo 2 euro i tesori d'oriente si trovano intorno ai 4-5 euro fino a questo di corres che è il più costoso di tutti sui 40 euro mi sembra però magari scontato lo potete trovare anche in un prezzo più vantaggioso se riesco a trovare i link dei profumi ve li metto tutti in infobox fatemi sapere voi se conoscevate già queste fragranze i tesori d'oriente quasi quasi certamente sì e se ce n'è qualcuno magari che è tra i vostri preferiti o che vi ha incuriosito particolarmente insomma come sempre incontriamoci giù nei commenti e a questo punto io vi saluto ve si ama a tutti quanti ve si ringrazia a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video miau miau ciao 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 Grazie a tutti.